Chi coscientemente diffonde il nulla ha una grandissima responsabilità di fronte a Dio e dal prossimo. Stiamo sempre molto attenti alle idee che diffondiamo perché la scienza non può spiegare tutto. Anche se vivere con fede non è facile, abbiamo il compito di approfondirla. Per chi non vuole vedere nulla è evidente. Nessuno può essere sicuro che dopo la morte terrena finisca tutto. Durante la nostra vita abbiamo tantissimi segni sull'esistenza di un Dio creatore e dell'anima immortale. Ma molti non vogliono leggerli perché è più comodo negare un Dio a cui dobbiamo anche rendere conto di quello che facciamo. Chi diffonde il nulla raccoglierà il nulla anche su questa terra.